Rendere le città e le comunità sicure, inclusive, resistenti e sostenibili. Nel mondo circa 3 miliardi e mezzo di persone vivono in città, numero destinato a lievitare a 5 miliardi nel 2030. Le qualità delle aree urbane e l'ambiente che ci circonda può influire drasticamente sulle nostre abitudini e stili di vita. Il miglioramento dei nostri spazi vitali è un obiettivo imprescindibile per il 2030. Non respiro più, mi sento che soffoco un po'. Sento il fiato che va giù, va giù e non viene su. Vedo solo che qualcosa sta nascendo, forse è un albero. Sì, è un albero. Di 30 piani. Un futuro migliore inizia adesso e parte dall'impegno di ognuno di noi. Se vuoi far parte del cambiamento, mettici la faccia. Grazie.